... Davide, dove sei? Davide, Davide, Davide... Bene, prossimo incontro sul ring, recuperiamo il match numero 3 e poi andiamo avanti dal numero 15 quindi angolo rosso, paretti Francesco angolo blu di Gianni Francesco come mai la lotta, siamo già fermi? ma ci sono altri match? え? oh! go Nossa! Grazie. 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 Grazie.